Buongiorno FTI Online, partenza in deciso rialzo questa mattina per la borsa con il nostro Fuzi Mib che infatti in questo momento guadagna l'1,11% circa, siamo intorno ai 22.150 punti. Il segnale di forza dato anche dal superamento di questa trendline che parte dai massimi dell'11 dicembre, ma già nelle ultime due sedute chi ci ha seguito con le analisi, per esempio quella presentata ieri, ha avuto modo di vedere la presenza di due candele rialziste che avevamo segnalato, due hammer che si erano disegnati nelle giornate del 2 e del 3 gennaio, quindi una base solida sulla quale fare parte un rialzo che potrebbe a questo punto anche estendere al di sopra di area 22.250 possibilità di arrivare fino ai 22.550-600 punti almeno prima di trovare una nuova resistenza. Attenzione però che in caso di discesa di sotto della base odierna, quindi sotto i 22.000 punti, il rischio di ricopertura del gap rialzista ha lasciato dai prezzi in avvio di seduta con un supporto intorno a 21.900. Questa mattina è partita molto forte Fiat Chrysler, siamo di sopra dei 16 Euro, il massimo del 3 di novembre è stato toccato a 15,82 Euro, quindi i prezzi hanno superato questi massimi, un segnale decisamente interessante perché a questo punto la fase laterale è che le quotazioni hanno disegnato dai massimi di ottobre, può essere considerata un rettangolo, ossia una figura di continuazione della precedente tendenza rialzista. Il primo target del rettangolo viene ottenuto proiettando nell'ampiezza dal punto di rottura, quindi si colloca intorno ai 17,75 Euro, il lato alto del canale crescente che parte dai minimi del settembre dello scorso anno, anzi a questo punto di due anni fa, del 2016, è stato, diciamo il lato alto del canale è stato superato nuovamente anche nella seduta di oggi, anche in questo caso si può utilizzare il metodo della proiezione, quindi prendere l'ampiezza del canale e proiettarla dal punto di rottura per ottenere un target di possibile movimento che in questo caso si posiziona fino in area 19,40-19,45, quindi buone prospettive di rialzo per Fiat Chrysler se saprà confermarsi nella seduta odierna in chiusura di giornata al di sopra dei 15,82 Euro. Bene anche gli altri titoli della Galassia Agnelli, la controllante Exor e CNH Industrial, in particolare CNH Industrial questa mattina sale a 11,60 Euro circa, in questo caso, anche in questo caso siamo al di sopra dei massimi che il titolo aveva toccato il primo di novembre, quindi una ulteriore indicazione di forza che lascia sperare anche in questo caso nella ripresa del trend rialzista di fondo. Il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica che abbiamo sviluppato in collaborazione con Trend Online, che fornisce indicazioni di trading sui principali strumenti italiani, ma anche internazionali, ci indica una posizione long dal 6 dicembre, un target a 11,41 Euro, ma come diciamo sempre il target che Mega Trader fornisce è relativo solo al breve termine, non è assolutamente il livello sul quale andare a chiudere la posizione, ma solo un possibile obiettivo intermedio che poi è destinato a essere superato fino a che la posizione viene mantenuta long dal trading system. Il lato alto del canale crescente che parte dai minimi del novembre dello scorso anno si colloca a 12,70 Euro, è l'obiettivo verso il quale potrebbero dirigere i prezzi se in chiusura di giornata e oggi si confermeranno al di sopra di area 11,50 Euro. È interessante andare a guardare il quadro di forza relativa tra Fiat Chrysler e CNH per capire quale dei due titoli sia in questo momento meglio posizionato in termini di forza relativa. Il fatto che il grafico sia tendenzialmente discendente ci dice che mediamente nell'ultimo anno circa CNH ha sottoperformato Fiat Chrysler, c'è stato un tentativo di inversione di questo rapporto di forza nel corso degli ultimi mesi in cui c'è stata una moderata sulla performance di CNH, ma vediamo già che nelle ultime settimane abbiamo due massimi decrescenti del grafico, quindi ancora una volta Fiat Chrysler che torna a sovra performare CNH. se infatti andiamo a guardare il nostro grafico di Fiat Chrysler e andiamo a guardare la forza relativa con CNH in Dastial, vedremo una curva crescente, quindi ovviamente questo è Fiat Chrysler che sovra performa CNH, quindi in questo momento sembrerebbe in un'ottica di portafoglio logico sovra pesare Fiat Chrysler nei confronti di CNH. Vediamo di fare lo stesso ragionamento anche nei confronti di Exor, se andiamo a calcolare la forza relativa con FCA, vedremo una curva anche in questo caso in netta discesa, quindi Fiat Chrysler ha sovra performato nettamente negli ultimi mesi anche Exor, ovviamente in termini di puro rendimento atteso è opportuno privilegiare Fiat Chrysler rispetto a Exor, attenzione però perché se andiamo a guardare l'andamento della volatilità storica, in questo caso calcolata a 3 mesi, ci accorgiamo che quella relativa a Exor è al 21% circa, mentre se andiamo a fare la stessa cosa su Fiat Chrysler ci accorgiamo che la volatilità storica è al 28% circa, quindi abbastanza più elevata, perciò se in un'ottica di puro rendimento atteso Fiat Chrysler è da preferire a Exor e anche a CNH, attenzione però perché è un titolo più volatile, quindi moderatamente più rischioso e quindi va sovrappesato solo in un'ottica di portafoglio aggressivo, un portafoglio conservativo, probabilmente si possono distribuire equamente Fiat Chrysler, Exor e CNH, ma adesso guardiamo rapidamente anche le aspettative su Exor che questa mattina è a 52,40 Euro, la resistenza da battere è il picco del 13 dicembre a 52,75 Euro, vediamo che questa seduta su grafica canale giornaliere è un shooting star, quindi un elemento che rappresenta una forte resistenza, il superamento di quei livelli sarebbe un segnale di forza decisamente incoraggiante che lascerebbe spazio con buona probabilità al ritorno sul doppio minimo, sui massimi del 6 novembre toccati a 56,70 Euro, le oscillazioni dell'ultima settimana possono essere viste come un doppio minimo, quindi il superamento del suo lato superiore, ossia come abbiamo detto del massimo del 13 dicembre, aprirebbe la strada a movimenti di ampiezza proporzionale a quella della figura stessa, come vediamo infatti il target del doppio minimo, si colloca molto vicino ai massimi del 6 novembre che abbiamo già indicato come potenziale punto d'arrivo di un rimbalzo che ci portasse al di sopra dei 52,75 Euro. Con questo vi ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani per il consueto commento giornaliero.